Ha deciso di farla finita lanciandosi dalla passerella vicino al bacino artificiale Busa di Giaretta, a Camazzole. Christian Lancerin, 43 anni, di Marostica, è morto nel primo pomeriggio di venerdì. In tasca aveva un biglietto in cui chiedeva scusa ai familiari. In un primo momento si era fatta avanti l'ipotesi di una morte violenta. La ferita, profonda alla testa riscontrata dal medico legale, ha fatto scattare l'allarme da parte dei carabinieri. Poi, con il passare delle ore e successivamente a un esame più approfondito, si è scoperto che la morte è stata provocata dalle fratture a livello lombare, compatibili con la caduta dal trampolino. A scoprire il cadavere un bagnante. L'area d'estate diventa un lido dove i cittadini vanno a cercare un po' di refrigerio durante le ore più calde della giornata. Immediata la segnalazione alle forze dell'ordine. I militari dell'arma, scavando nella sua vita, hanno scoperto che l'uomo aveva avuto problemi legati all'alcol ed era probabilmente stato risucchiato nel vortice della depressione.